ciao a tutti sono sissi bentornati sul canale sono ritornata dalla mia postazione è arrivato il pezzo di ricambio del mio treppiedi sono felicissima e oggi facciamo un bel haul di prodotti nuovi che ho comprato fatto shopping un sacco di roba abbiamo un sacco di roba da vedere tra l'altro sto anche preparando il video di tutti i gioielli che ho comprato nelle mie vacanze di quest'estate pietre pazzesche gioielli bellissimi e sta arrivando ho bisogno di un po di tempo perché vi volevo anche mi sto appuntando un po di proprietà sulle pietre eccetera quindi state sintonizzati perché arriva anche quel video quindi ho comprato un sacco di roba o tanto da farvi vedere abbiamo roba per capelli roba per il trucchi profumi di tutto di più skin care però volevo prima partire con dei prodotti che devo provare anch'io per la prima volta che mi hanno regalato per il mio compleanno e sono prodotti di passione beauty quindi passione unghie passione unghie non fa solo prodotti per le unghie ma è uscita con una linea appunto passione beauty ha delle cose particolari le mie amiche mi hanno regalato dei prodotti per il mio compleanno non non li ho ancora aperti cioè li ho aperti ma non li ho annusati non ho sentito consistenza e niente quindi lo faremo adesso sono venivano in questa bellissimo sacchettino una dust bag che come quella che può essere per borse scarpe eccetera e mi hanno regalato questa bellissima pochettina passione beauty che contiene una spugnetta per il viso per lo scrub per lo scrub uno scrub gentile vedete non è intanto io ancora l'unghia non me la sono fatta e quindi perdonate il moncherino è uno scrub gentile ed è appunto un pad per il viso e ha anche questo pratico elastico dietro e non vedo l'ora di usarla quindi ottimo ottima idea poi mi hanno preso una crema piedi gambe drenante nutriente dice lemongrass t3 quindi è una crema per i piedi gonfi piedi gambe gonfi che io ho ovviamente se avete visto il video degli integratori sapete che sto prendendo un drenante e adesso la vediamo insieme sento già il profumo che un profumo un po particolare lemongrass t3 è chiusa ma sento già il profumo ovviamente in questo momento non la proverò sui piedi ma magari la proviamo sul braccio che dite se riesco a togliere il tappino qua oggi mamma mia con la manualità zero proprio coi denti si risolve sempre tutto facciamo qui sul braccio un pochino di crema vediamo la consistenza è una crema gel ok il profumo sì devo dire che è molto veritiero di lemongrass t3 è un profumo da spa sapete quei profumi che sentite quando andate nelle spa un po particolari un po sì è proprio un profumo da spa adesso sentiamo se fa fresco o no comunque drenante nutriente me la aspettavo mentolata non avevo visto che c'era scritto lemongrass t3 però non è mentolata e per il momento non sento nemmeno sensazione di fresco la proverò sui piedi e vedremo se mi sgonfierà i miei gonfiori e magari sarà nei prossimi video dei promossi e bocciati crema mani anti age scettificante arancio aloe voi sapete che io impazzisco per l'odore di fiori d'arancio e adesso sentiamo questa crema mani se è una crema mani all'arancio o il profumo è fiori d'arancio vediamo anche un po la consistenza vediamo in quanto tempo si assorbe anche qui c'è la plastichetta mi conviene fare come prima esatto e proviamo ok la consistenza sembra già ricca il profumo adesso ve lo dico ancora non lo sento il quell'altro era molto più sentiva molto di più non sento niente che è covid no arancio aloe è un profumo veramente molto delicato non sento profumo cioè forse si sento un pochino l'arancio ma non è fiori d'arancio è proprio arancio arancio ma è molto 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 delicato come profumo la consistenza abbastanza ricca adesso vediamo in quanto tempo si assorbe comunque molto delicato come profumo l'altra invece l'altra crema con la piedi gambe è molto più lemongrass titri è un profumo molto più profondo parlando di profumi cioè io ho preso tutti i prodotti che hanno dei profumi che vi danno una manata proprio una manata in faccia primo profumo che ho preso il primo e unico profumo che ho presa tutti questi prodotti che vi farò vedere da adesso in poi li ho presi in un negozio per professionisti dell'estetica quindi è un negozio che si compra solo con partita iva perciò non starò qui a dirvi prezzi anche perché non sono veritieri ho preso questo profumo che si chiama blossom è della marca con ver srl che è di milano il sito è www.conversense chance.com quindi è un marchio italiano con ver cerco di farvelo vedere però è la situazione qui è caotica ho tenuto la scatolina perché mi piaceva ma è veramente molto caotica questo profumo si chiama blossom e dovrebbe essere la riproduzione di gucci bloom ecco qui la scatolina il packaging ok io non ho idea di che cosa sappia gucci bloom però so che è buono ma ho trovato questo profumo qua mi ha dato la manata e tra tutti quelli che ho sentito ok è quello che mi è piaciuto di più allora all'inizio si sente un cocco si sente si sente un cocco floreale non so se gucci bloom è così ma è il profumo più persistente che ho provato tra tra tutti quelli che ho provato vi dà veramente la manata in faccia è un profumo che o si ama o si odia quindi se siete in un gruppo di gente o le attraete oppure si forma il vuoto verso di voi a me per il momento piace ovviamente i giorni in cui ho mal di testa ovviamente è meglio scartarlo perché è un profumo veramente molto importante è molto dolce molto importante e niente vedremo se sarò di questa opinione per il momento mi piace vedremo se sarò di questa opinione nei prossimi giorni nei giorni a venire chissà se lo ritroveremo in un bocciato prossimamente poi parlando sempre di profumi nauseabondi ho comprato un olio struccante quindi andiamo nel tema skin care ho trovato questo olio struccante che è cocomonoi ovviamente di face complex è un olio struccante per la doppia detersione io non l'ho ancora provato lo proverò oggi per togliere questo trucco che è comunque un trucco leggero perché fondotinta ancora non se ne parla ho solamente truccato gli occhi le sopracciglia e le labbra però vediamo come si comporta con il mascara con il prodotto per le sopracciglia che comunque un waterproof o olio da tutte le parti per il momento io non sento sento l'odore del profumo e niente quindi a un olio struccante per la doppia detersione e vedremo vedremo come si comporterà anche questo state sintonizzati che chissà mai che lo promuovo pieni voti o che lo bocciano i super bocciati vi farò sapere sempre per rimanere in tema skin care mi sono presa questo pannetto struccante dice panno struccante di seta blu il marchio seta blu vedete questo pannetto tutto puccioso pelucioso ovviamente sintetico no cosa dice no panni microfibra microfli microfibra super fine qui non lo so adesso ad aprire però vi faccio capire com'è la morbidezza di questo pannetto a che bello questo lo probabilmente lo utilizzerò in congiunzione con quell'olio bene abbiamo finito con la skin care però rimaniamo sempre in tema avviso perché ho preso tre ombrettini così quelli facili com'è che si chiamano automatic e shadow quelli sono quelli automatici e niente della cost cost makeup italia e ho preso la 01 02 03 questi sono qui colori sono questi questo qui lo 02 ce l'ho su oggi in questo momento adesso se riesco ad aprirli facciamo gli swatch dico se riesco ad aprirli perché c'ho la tutta ho tutta la crema sulle mani niente mi faccio aiutare dal camera dead arrivo subito ok mi sono fatta aiutare dal camera dead che me li ha svitati un pochino intanto Raul sta facendo casino iniziamo con il numero 2 che è quello che ho indosso ora vi faccio lo swatch qui speriamo che si veda qualcosa è un nudo comunque è un nudo sul marroncino tra l'altro c'è anche sole molto luminoso lo vedete bene sugli occhi poi svuocciamo il numero 3 che è un rosato vediamo se si vede la differenza si la differenza si vede che è più rosato quell'altro più forse così lo vedete meglio questo qua sopra è più sui toni del marrone mentre questo qua sotto è più come la mia unghia è un malva un rosato malva sempre comunque metallizzato adesso poi lì con calma li richiudo bene e poi c'è lo 01 che è quello più chiaro vediamo se è un doratino o che cosa anche questo molto bello si è più un nudo dorato champagne un nudo champagne e quindi questi sono gli ombrettini che mi sono presa ombrettini automatici molto facili da utilizzare facili e velocissimi voi ve li mettete poi con un pennellino sfumate come per i matitoni di astra che vi avevo fatto vedere in un haul precedente questi vi svoltano la mattinata insomma quando vi truccate se siete persone che cercate un po' la velocità la praticità la semplicità questi ombrettini come i matitoni di astra sono quello che fanno per voi adesso vediamo come si comportano oggi è la prima volta che li ho utilizzati e vediamo un po' insomma se vanno nelle pieghe se non vanno nelle pieghe i matitoni di astra un pochino vanno nella piega ma comunque è un prodotto cremoso ce lo possiamo aspettare sempre sul make up ho speso un sacco di soldi in glitter ve lo dico subito ho preso ben due glitter di italfarma in questi pottini sono glitter illuminanti per viso corpo unghie quello che volete e sono si chiamano illuminanti diamond 0102 diamond silver bianco e diamond champagne e hanno il il puffino come se fosse una cipria adesso io glitter da tutte le parti probabilmente ok volano glitter su questa mano ho messo sono quelli chiari sul toni del bianco dell'argento e sono molto indicati per il mio sottotono anche se adesso sono abbronzata ma io ho un sottotono freddo e poi ho preso non ho resistito ho preso anche questi champagne che questi li mettiamo su da quest'altra parte non so se si noto eh si si vede la differenza questi sono chiari si vedono poco mettiamone di più glitter glitter ovunque ok adesso si adesso si che l'ho fatta giusta questi sono chiari vedete e questi sono dorati champagne vanno bene adesso io sono andata adesso e ho trovato questi rimasugli d'estate adesso che l'estate è finita ma non ho potuto resistere li ho presi per le serate che non farò mai questo inverno e niente questo è quanto glitter ovunque della stessa gamma ho preso anche il glow face and body liquid illuminator sempre di italfarma in quelli chiari e mi è piaciuto questo spray glitter perché è uno spray glitter non olioso non in olio quindi voi sono questi sono spray qua dice per il corpo e per il viso ma io lo userò soprattutto per il corpo e ok vedete non sono in olio sono in qua probabilmente non so c'è dentro aloe non so glitter ovunque e niente quindi non ho io non ho potuto resistere a tutti questi glitter anche se ormai l'estate è finita non so gli userò questo inverno se avrò delle serate da fare se no li conserverò per la prossima estate e questi qui in sciolti questi glitter qua sciolti posso usarli anche volendo sulle unghie quando mi faccio le unghie bene andiamo avanti andiamo avanti con i prodotti carrellata di prodotti per capelli prodotti fanola dunque ho ripreso lo shampoo orotherapy di fanola che vi avevo fatto già vedere in un haul precedente perché mi sto trovando veramente bene quindi non l'ho ancora finito quello che sto usando ma l'ho ricomprato di scorta poi ho preso anche questa maschera la no yellow mask di fanola quindi maschera viola anti giallo perché io mi vedo che ho dei riflessi che vorrei togliere smorzare non lo so si vede che non so più cosa fare della mia vita perché praticamente dopo la seconda tinta che ho fatto la numero 6 di garnier quella casting cream gloss mi pare non so mi ha lasciato forse si vede qua che la ricrescita è diversa mi ha lasciato tutti questi riflessi dorati che mi piacciono e mi piacciono un sacco anzi infatti sto cercando di capire che cosa devo fare del mio futuro dei capelli perché mi piace questa questa sfumatura chiara che stanno prendendo i miei capelli anzi infatti la prossima volta che faccio la tinta sono quasi tentata di fare il numero 7 il numero 7.11 di garnier excellence cool tones 7.11 che quindi sono i toni quelli freddi quindi il numero 7 io sono un 6 vorrei fare un 7 quindi andare più chiara come l'anno scorso alla fine dell'estate volevo andare più scura ho fatto il 5 quest'anno alla fine dell'estate voglio andare più chiara e vorrei fare un 7 ma non so se azzardarmi a farlo o no quindi io vorrei provare prima a fare l'antigiallo e poi capire il da farsi se è meglio fare un 7.11 o un 6.11 purtroppo io non so più cosa fare della mia vita si vede non riesco più a prendere una decisione quindi però prima o poi dovrò decidere il da farsi io nel caso l'ho preso ho preso l'antigiallo vediamo incrociamo le dita che non mi escono i capelli di un colore strano e poi ci hanno regalato lì perché sono andata con un'amica che ovviamente è parrucchiera ci hanno regalato sempre della stessa linea fanola l'anti orange quindi shampoo e maschera questi sono dei campioncini perché ero indecisa c'è Raul che sta cercando di buttare giù la porta ero indecisa se prendere l'anti arancio o l'anti giallo perché vedete che comunque vedete i riflessi secondo me sono ramati la parrucchiera che era con me mi ha consigliato l'anti giallo però visto che ci hanno regalato anche l'anti arancio il no orange me l'ha dato e mi ha detto boh prova mi ha detto fai conto che comunque queste cose sono molto blande io lo spero perché vedendo la porosità dei miei capelli comincio ad aver paura di uscire con i capelli mezzi marroni mezzi viola o mezzi marroni e mezzi blu perché questo dovrebbe essere una maschera viola anti giallo mentre questo anti arancio dovrebbe essere blu e quindi boh vedremo vedremo incrociamo le dita pregate per me faccio come il papa ricordatevi di pregare per me ricordatevi di pregare per i miei capelli lo so io avevo tutta sta paura di toccare i miei capelli adesso sono diventata quella che sperimenta bene poi l'ultima cosa ultimo prodotto no non è l'ultimo prodotto ma il penultimo sempre fanola mi ha fatto provare la mia amica questo questi cristalli questi cristalli lucidanti di fanola che si chiamano styling tools fanola purtroppo si vede male si vede poco perché è trasparente la confezione sono cristalli sono cristalli lucidanti me li ha fatti provare la mia amica che lei li usa e mi sono trovata benissimo e tra l'altro stamattina li ho messi prima di asciugare i capelli e vedete come sono belli lisci i capelli me li ha fatti provare al mare ho detto no li devo assolutamente prendere anche io e niente hanno anche questi hanno un profumo molto molto intenso quasi nauseabondo nei giorni in cui avete mal di testa forse meglio che non lo mettete questo prodotto perché all'inizio mi piaceva come profumo poi ho detto non lo so quando l'ho sentito la seconda volta ho detto ma è forse un po forte quando l'ho messo oggi ho detto beh si può fare però comunque non è una cosa gestibile è al momento anche perché di questo prodotto ne va messo poco poco è proprio una goccia soprattutto per chi ha i capelli fini sottili come i miei se no l'inci è pessimo perché sono andata a vedere l'inci l'inci è pessimo perché questo è un silicone messo in bottiglietta è un silicone volatile il che vuol dire che è un silicone che non appesantisce il capello però un silicone altamente inquinante quindi per l'ambiente è pessimo 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 per i capelli così così ma per l'ambiente è pessimo 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 non so a me è piaciuto come mi ha lasciato l'effetto quindi l'ho preso l'ho preso un po al buio ecco l'ho preso provandolo così una volta sono andata a vedere l'inci vi ha fatto rabbrividire però devo dire che vediamo vediamo se aiuta un po i miei capelli per il momento a me a me sta piacendo però io ve lo dico l'inci è pessimo se siete persone che avete cura dell'ambiente vista cuore tutto il tema eccetera e non lo so io un paio di domande me le farei però per il momento mi sta piacendo sui capelli quindi ultimo prodotto che poi non è proprio l'ultimo perché ne ho comprato un altro così ho preso il profumatore per l'auto l'altra volta avevo preso pino ora ho preso oceano quindi saprà di mare adesso vabbè lo sto qui ad aprirlo però sicuramente sarà chiuso dentro non si sentirà l'odore di quelli così insomma l'altro poi il povero pino mi sia svitato mentre guidavo è andato profumo ovunque da tutte le parti e quindi ci ha lasciato il povero pino e ho preso oceano ho preso sempre della stessa linea che è sempre di seta blu seta blu oltre a fare i prodotti non si vede perché non mette a fuoco metti a fuoco vabbè non mette ha deciso di no è seta blu oltre che a fare prodotti evidentemente per il per il corpo per il viso per il corpo fa anche profumatori per l'auto ok e quindi è un made in italy e ho preso oceano della stessa linea sempre profumatore auto ho preso anche quello spray però l'ho lasciato in macchina al talco ho già provato a spruzzarlo un po in macchina l'ho spruzzato un po sui sedili dove ci sono i tessuti l'ho spruzzato ovviamente per per far rimanere meglio il profumo e vediamo la profumazione talco è veramente molto buona molto delicata molto talcosa e vediamo vediamo se prende se non prende in macchina mia io l'ho spruzzato l'altro giorno quando sono tornata a casa dal mio giro shopping e poi non sono più andata in macchina quindi non saprei devo andare a controllare la mia macchina se sa ancora di talco o se ha preso qualche profumazione indesiderata ma dai penso di no quindi questo è quanto questo mega haul prodotti ci sono delle chicche ci sono delle chicche e niente adesso proverò tutto e poi ci risentiamo nei prossimi video vi farò sapere tutto quanto io per il momento vi mando un bacio vi ricordo di iscrivervi al canale se non siete iscritti di lasciarmi un like di supporto e di sentirci qua sotto nei commenti io vi bacio e ci vediamo alla prossima ciao